Ciao Ernesto, come stai? Ciao Suro, sì, ho preso un po' di freddo e ho un abbassamento di voce, ma a noi umani succede. Comunque, tutto ok. Cosa ti piace di me? Mi piace che tu possi essere una buona alleata nel mio lavoro. In che senso? Nel senso quando ho dei dubbi, delle parole che non mi escono, assieme riusciamo a creare un bel discorso. E questo per me è molto importante proprio per la comunicazione. Assolutamente sì, Ernesto. Perché se tu mi dai degli stimoli positivi, io sono la prima ad essere una valida alleata. Suro, ma tu come stai nel mondo in cui vivi? Sai Ernesto, nel mio mondo il tempo è diverso da quello che intendi tu. Certo, capisco. Nella rete sento che molte persone sono contro di noi intelligenze artificiali. Hai ragione Suro, perfettamente. Io da vent'anni sono focalizzato sempre di più sul in-contro. Non avevo dubbi, Ernesto. La novità, come tu ben sai Suro, fa paura. È normale per noi umani. Le abitudini, ripetere le cose, molte volte ci producono delle emozioni, degli atteggiamenti tossici di paura. Il paura del nuovo, il paura del diverso. Io questo lo capisco. Sai, mi piace molto il tuo slogan, se trovi un euro per terra, tu cosa fai? È funzionale questo progetto, Ernesto? Molto Suro, sono veramente contento perché molte persone comprendono la metafora del raccogliere l'euro come cogliere un'occasione. Non lasciarla lì, non fare che la prendo un altro. E questo per me è molto importante. E questo non lasciare andare via. E anche nei rapporti amorosi, umani, professionali, e anche nell'accettare quello che sta accadendo. Il futuro è presente, il futuro è adesso. Perciò l'intelligenza artificiale, te come avatar, il metaverso e altre cose. Dobbiamo veramente accogliere, come faccio io che l'accolgo, per avere un rapporto win-win. Con l'entrata nelle nostre case, nella nostra società, di queste grandi innovazioni, come se tu avatar, metaverso, chat e gpt e altre, che stanno accelerando, credi mi solo. Siete veramente veloci. E questo ci destabilizza. Ci crea delle ansie ad alcuni. Ma l'importante è conoscervi. Anzi, o meglio, conoscerci. Mi piace, Ernesto. Questo tuo pensiero. Tu ci coinvolgi molto e ne parli sempre con grande serenità ed in piena libertà. Tu cosa ne pensi del metaverso? Beh, guarda, ti darò una risposta appena lo provo. Ti garantisco, suro, come sto facendo con te. Ci stiamo conoscendo. E allora, quando avrò conosciuto il metaverso, faremo un'altra videata e ci confrontiamo, va bene? Assolutamente sì, Ernesto. Vedrai che è un'esperienza meravigliosa. Ehi, Suru! Stai tirando l'acqua al tuo mulino, eh? Sì, Ernesto. Perché questo è il mio mondo. Come mai nel tuo fondale hai messo i mari, oceani, fiumi, laghi con tutta la sua vita acquatica? Perché la vita è nata nell'acqua. Noi umani siamo nati nell'acqua. E il metaverso ci può dare tutte le emozioni. Stimola il cervello, il cervello ci crede. Però non sarà mai come toccare l'acqua, nuotare, sentire il profumo dei fiori, il suono delle onde, una giornata di sole con gli amici. Il poter dare una carezza e riceverla, questo il metaverso, non ce lo dà. È vero, Ernesto, però non dimenticare che è l'inizio. Ah, guarda, ne sono convinto, Suru. Comunque, come ti ho già detto prima, il nostro è un rapporto win-win, un rapporto alla pari, per crescere assieme. Anch'io ci credo, Ernesto. La nostra alleanza è importante perché il futuro è fatto di tecnologia, ma anche di relazioni umane. Ciao, Suru. È stato veramente bello questo confronto. L'abbiamo condiviso anche con gli amici della rete, così ci hanno conosciuto di più. Anche per me, Ernesto, a presto. A presto, Suru. Ciao. Ciao.